Cioè ci sono ancora degli inciampi, degli ostacoli politici da risolvere prima di questo decreto? Guardi, noi abbiamo un obiettivo principale che ora noi dobbiamo salvare questo Paese dobbiamo ovviamente anche rimediare i ritardi io dico anche a qualche errore evidentemente che è stato commesso in passato dal precedente governo Cito dei dati, la CGA di Mestre pochi giorni fa è uscita con uno studio su quelle che sono le cifre destinate per i ristori in Italia sono stati in media 1900 euro in Austria sono stati 3000 in Europa in media 2500 Noi abbiamo bisogno di un cambio di passo Cito questi dati, tra l'altro erano stati citati anche in un post proprio dal senatore Morra per fare questo tipo di ragionamento se qualcosa non è andato nel precedente governo noi oggi abbiamo innanzitutto la responsabilità di salvare ciò che c'è Mi scusi Stellari, posso? Posso? Mi scusi tanto Voi avete il dovere di salvare, non c'è dubbio ma a questo punto di immaginare quello che dovremmo quello che dovrà essere questo Paese non solo salvare salvare ormai non basta più Se mi lasciava camminare ma accolgo questa sua interruzione per ragionare anche con lei sotto questo profilo sono d'accordo che il nostro Paese così come gli altri Paesi non solo dei europei ma del mondo dopo questa esperienza tragica saranno destinati a in qualche modo cambiare cambiare anche nella loro strategia di sviluppo questo è un ragionamento che dovremmo fare ma oggi noi dobbiamo ragionare per priorità è lo stesso ragionamento che facevamo prima per quanto riguardava i vaccini nessuno è lì che gode se qualcosa non funziona però noi dobbiamo essere precisi con i cittadini i cittadini meritano in questo momento la trasparenza, la verità quindi oggi noi dobbiamo intervenire subito per dire le cose come sono e per fare le operazioni necessarie ci sono 32 miliardi in questo pacchetto del decreto sostegni che sono ovviamente destinati per i cittadini italiani ma sappiamo già che quelli non basteranno infatti è già previsto uno scostamento di bilancio pari a circa 20 miliardi interverremo ovviamente sul fisco prima lei ha citato questa operazione per quanto riguarda le cartelle diciamo quelli inesigibili ora questi sono cartelle inesigibili che lo Stato non riuscirà mai a incassare sono cartelle che hanno un valore massimo fino ai 5 mila euro cada una e ovviamente costituiscono un peso per questo nostro paese un peso soprattutto per quanto riguarda il fisco quindi questa operazione che è concordata che è ovviamente anche condivisa con il governo porterà a un impegno diciamo così sotto questo profilo di circa 2 miliardi quello sul cashback sì, noi diciamo facciamo qualcosa che sia utile immediato veloce quella operazione è stata criticata non solo da noi in realtà ma da molti altri e quota circa 3 miliardi usiamoli magari per il turismo ecco, facciamo cose che servono quindi i successivi miliardi di disposizione siano destinati per le famiglie e soprattutto per le attività produttive facciamo così siccome devo sentire su tutta questa parte